Buongiorno, siamo in estate e anche se la sera devo dormire tardi tipo l'1 alle 2, la mattina punto sempre una sveglia per cercare di non svegliarmi a mezzogiorno e non concludere niente la mattina quindi la metto sempre verso le 9, 9 e mezzo una volta che sono nata alla sveglia mi rimetto nel letto con le coperte perché magari c'è un mostro, non si sa mai, meglio proteggersi con il telefono a vedere un po' i vari social, mettere una foto su Instagram, vedere Facebook quindi stare sui social per 10 minuti più o meno, il tempo insomma di riprendermi dalla sveglia decido quindi che è il momento di alzarmi, rifaccio il letto e vorrei alzare la serranda poi vado in bagno, mi lavo la faccia e mi metto una crema idratante poi scelgo i panni da indossare per quella mattinata e mi vesto vado in cucina ed inizio a prepararmi il latte quindi lo faccio scaldare nel frattempo sto un po' al telefono che non fa mai male poi metto cacao, zucchero e la croccia è pronta quindi vado a bere il mio latte e biscotti appunto bevo e mangio sempre con il telefono così almeno mi sveglio in modo giusto torno in bagno mi lavo i denti poi vado in camera e inizio a montare dei video se ho da montarne oppure registro quello dipende appunto dalle varie mattine vedo insomma cosa devo fare ed inizio subito a lavorare senza perdere un minuto di tempo pianifico un po' la settimana controllo quella che sta i video da pubblicare il giorno dopo insomma un po' di controllo del canale poi mi metto tranquilla e beata a vedere i video bevendo magari anche un un succo di frutta perché con questo caldo assolutamente serve e il resto della mattinata quindi lo passo in in totale redax ovviamente se sono libera un bacione ragazze al prossimo video